Ci troviamo a Roma nella splendida cornice del nobile collegio chimico farmaceutico. L'occasione importante è la consegna del premio Sifo e Takeda alla ricerca in farmacologia oncologica. Tra i tanti farmacologi intervenuti è anche un politico importante, il senatore Piero Aiello, che ha sottolineato l'importanza della ricerca e quindi abbiamo pensato di rivolgergli qualche domanda. Senatore, lei qui ha parlato di prevenzione, ma che ne so c'è tra ricerca e prevenzione? Qual è il legame? Abbiamo avuto la possibilità di rimarcare con forza il connubio sinergico tra la prevenzione e la ricerca. Non ci può essere salute senza prevenzione, non ci può essere prevenzione senza ricerca e quindi non c'è salute senza ricerca. In Commissione abbiamo parlato abbondantemente con il Ministro Lorenzin sulla necessità di aumentare i fondi per la prevenzione. Lei è stata ben d'accordo su questo e quindi da oramai, prendendo atto dell'evoluzione che il sistema sanitario ha avuto nel corso degli anni e delle differenziazioni istituzionali che hanno contraddistinto poi la rimodulazione del sistema stesso, oggi ci troviamo di fronte alla necessità di lavorare molto sulla prevenzione, intanto per sfoltire più che possibile i pronti soccorsi che sono affollati da decine di migliaia di persone che chiedono prestazione anche di bassa intensità, quindi dei codici bianchi, e abbiamo proposto al Ministro di coinvolgere per questo in una struttura anche a 24 i medici di medicina generale, i periodi di base, gli specialisti ambulatoriali e i medici delle guardie mediche. Sicuramente questo contribuirà quindi a decentrare sul territorio il fenomeno enorme della richiesta di pressione sanitaria. Abbiamo anche avuto la possibilità e la necessità di indurre la signora Ministra su un altro argomento importante, che appunto come lei ha citato quello della ricerca. Giorni fa abbiamo discusso sulla sperimentazione animale, c'è stata un'unità di intenti in commissione, la sperimentazione animale, la vivisezione oramai non viene più utilizzata, sono in forma anomala, atipica, diremmo quasi di contrabbando, ma noi siamo perché la sperimentazione è continui, perché non ci può essere senza una seria sperimentazione una validità e una validazione di farmaci importanti. Immagino per esempio i farmaci oncologici, oggi la maggior parte delle sperimentazioni vengono fatte su cellule ed è inevitabile che ci sia poi una conferma su organismi complessi. Diventa assurdo e incomprensibile, con tutto il rispetto, immaginare una difesa all'oltranza dei ratti, i quali invece hanno per esempio l'85% del corredo cromosomico uguale al nostro, quindi sono indispensabili per la ricerca. Perché ecco, su questo punto dobbiamo, siamo stati, dobbiamo essere in transigenti proprio perché rispettiamo il mondo della ricerca e perché riteniamo che senza la ricerca non ci può essere salute. Quindi senatore, la buona notizia è che avete approvato la nuova normativa sulla sperimentazione animale, è così? Esatto, proprio in virtù di questa discussione che c'è stata abbiamo approvato all'unanimità questa norma che dà la possibilità di continuare sulla sperimentazione per dare risposta soprattutto ai cittadini utenti. Bene, questo è un fatto positivo per tutti coloro che credono nella ricerca, nella razionalità, nell'approccio logico alle cose. Ultima domanda senatore, questo governo è nato in una situazione di emergenza, Ecco, cosa potrete fare concretamente per la ricerca, visto che l'elenco dei problemi importanti a risolvere è piuttosto lungo? Beh, vede, noi riteniamo che essendoci una miriade di problemi la ricerca è uno di questi problemi, quindi per noi è un problema importante, soprattutto per tutta la Commissione Sanità. Noi spingiamo e spingeremo affinché la ricerca occupi uno spazio preminente nel contesto delle situazioni che devono essere comunque attenzionate dal nostro governo e siamo convinti di potercela fare perché riteniamo che la ricerca, l'innovazione e la ricerca possono rappresentare un substrato ideale per la crescita economica e sociale nel nostro Paese.